Sprai urticante in pista da ballo. In quattro all'odissea di Ispresiano hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. L'episodio intorno a 1.30 del mattino, in una delle sale di minor capienza della discoteca lungo la Pontebana, una cinquantina di persone è stata fatta sgomberare ai primi malesseri. Alcune persone hanno cominciato a sentire disagio alle vie respiratorie. Prontamente abbiamo areato il locale, spalangando le porte. Noi abbiamo anche degli impianti di aspirazione molto potenti e in pochi minuti la situazione è rientrata alla normalità. Tant'è vero che nelle altre sale nessuno si è accorto di niente. Nella struttura sono presenti, per volontà dei titolari, vigili del fuoco e soccorritori della Croce Azzurra. Il rischio che si scatenasse il panico tra i presenti è stato dunque gestito e sventato. Sul posto sono stati fatti intervenire anche i carabinieri. La sorveglianza interna si era però già messa sulla pista giusta dopo che una 22enne aveva segnalato di aver smarrito le chiavi dell'auto con appeso proprio uno spray urticante da autodifesa. L'abbiamo ritrovato qualche minuto dopo in un cestino della spazzatura in un bagno. Questa bomboletta era stata utilizzata in minima parte. Probabilmente chi ha trovato queste chiavi con questo oggetto pensava forse fosse un accendino o qualcosa del genere e inavvertitamente l'ha toccato e gli è partita una piccola spruzzata. A rimetterci sono state le persone intorno, due quarantenni sudamericane e una coppia di giovani. Due le abbiamo assistite accompagnandole in ospedale per accertamenti del caso perché avevano un po' di problemi alla respirazione sentendo un po' bruciare la gola e altre due persone hanno preferito andare con i mezzi propri in un altro ospedale per accertamenti ma ci risulta niente di grave. Tutti e quattro sono già stati dimessi con prognosi di pochi giorni. In discoteca, dove si sta cercando di ripartire dopo due anni di stop legati alla pandemia, si cercherà di risalire i responsabili attraverso i filmati delle telecamere a circuito chiuso.